Maschile, terzo classificato, Dejan Daniele del Trieste Archeri Team con 530 punti. Secondo classificato, Marcuzzi Giuseppe della compagnia Archeri Franchi con 531 punti. Il primo classificato, Mio, Mattia, Archeri del Castello con 548 punti. Certo classificato, Pintus Gabriele della compagnia Archeri Franchi con 490 punti. Secondo classificato, Carriero e Karim degli Archeri Maladensi con 524 punti. Il primo classificato, Certo Omar, degli Archeri del Tagliamento con 580 punti. Allora, adesso inizia la premiazione delle squadre. Arco olimpico Senna Maschile, terza squadra classificata, Trieste Archeri Team con Dejan, Senna e Sturiani. 1413 punti, 1413 punti. Secondo classificato, con la squadra della compagnia Archeri Franchi con Marcuzzi, Porto 090, 1472. E prima classificata, Caffè. Non ci credo. E prima classificata, la società Archeri del Castello con Mio, Denardi, Favaretto, 1524. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti